Come già sapete sono uscite anche le giacche, le mitiche t-shirt della linea Omisu Per lui, per lei, bellissime con una banda totalmente personalizzata Il logo gigante sulla schiena Omisu che significa acqua Edizione super limitata, acquistabile fino a gennaio credo Grazie Ciao Bailey, come state Bailey? Questo è Electric Oh my god Oggi farà un video peo animatore Peocolorista può rimanere lì a trastullarsi Sei contento? Bene Perché Peocolorista ormai è entrato in questa fase di accettazione dei suoi limiti Anche se io sono convinto che li può rompere ancora È tutto da vedere, giusto? Giusto Peocolorista? Io vorrei tirargli qualcosa addosso ma mi tratterò Adesso puoi andartene da lì che mi dà fastidio la tua presenza Grazie Aspettiamo Ok Bene signori, occhi su di me Bene, io oggi vi voglio parlare di come io faccio animazione, ok? Non voglio assolutamente sembrare arrogante Però per quanto riguarda il disegno sono molto insicuro Per quanto riguarda poi il colore eccetera Ma per quanto riguarda l'animazione ho acquisito recentemente una forte sicurezza Cioè mi sento bravo in quello che faccio Mi sento che quando immagino un movimento so già più o meno vederlo in frame So come applicarlo, so come farlo funzionare E dopo aver condiviso con voi molte storie su Instagram su il processo delle mie animazioni a cui sto lavorando Si è scaturita una forte curiosità diciamo così E quindi ho deciso Beh, sarà il caso che io porti un video a riguardo Quindi bando le ciance Iniziamo Pu 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 Bene bambolotti Pasticciotti Io lavoro con Animate CC Una volta, ai bei tempi, si chiamava Flash Sembro un boomer se parlo così Fatto sta che io ho imparato ad utilizzare questo programma grazie a YouTube Uno dei primissimi a fare tutorial su Flash fu Draw with Jaza Canale che seguo da tempo e che sapete è uno dei disegnatori più prolifici su YouTube Fatto sta che ora come ora se apri Animate si presenta in questo modo Questi sono gli ultimi file a cui ho lavorato Qui già ci sono dei set preimpostati come aree di lavoro Però per chi inizia sicuramente schiacceremo il Crea Nuovo Crea Nuovo apre una nuova finestra che ti fa selezionare l'area di lavoro Io in genere lavoro in full HD e poi vado a esportare in almeno 2K Cioè il doppio dell'HD Per avere un po' di flessibilità nella post-produzione Nella fase di montaggio Che è fondamentale per il tipo di lavoro che io faccio Quindi devo aprire Premiere nel mio caso Perché su Premiere io sto lavorando al progetto dei costumi per bambini di Arena Fatti dal sottoscritto ovviamente Quindi come potete vedere Io vado ad animare Insieme al video Quello è il mio obiettivo Queste sono le scene che avete visto su Instagram Adesso io voglio animare un gattino che gioca insieme a questo bambino In questa scena È una scena piuttosto breve ma ce ne sono stati altrettanto brevi Si riesce a fare molto in realtà in una scena così breve E ci vuole comunque sia almeno un giorno di lavoro Quindi iniziamo a farlo Quindi prima di tutto mi vado a esportare questa scena Una volta esportata questa scena posso anche chiudere il mio Premiere E questo è più o meno come si presenta l'interfaccia di Animate CC Che detto tra noi Ogni volta che apro Sembra che cambi le cose come pare a lui Perché io di solito gli strumenti li tengo qui di lato La ricambiati perché i colori io non li tengo qui Io li tengo qui a destra Animate CC ultimamente cambia le cose come vuole lui Fatto sta che quando aprirete Animate CC Se ci proverete Non si presenterà in questo modo La timeline mi sa che sarà in basso Quindi voi se vi trovate più d'accordo con il tenerla in alto Io personalmente si Ve la spostate felicemente da qui in basso a qui in alto I strumenti io li tengo sulla sinistra I colori qui non ci devono stare Aspetta un po' dai I campioni li tengo subito sotto perché li voglio vedere sempre Dato che io ho già i miei campioni qua sotto salvati i principali per i colori dei gatti Quindi adesso quello che voi vedete è già un lavoro relativamente completo Con le ombre con i colori con tutti i frame e questo come voi vedrete Tutta la suddivisione dei frame per ogni elemento Quindi qua c'è lo schizzo che non si vede L'ombra a terra il gatto le ombre dentro il gatto questa è una maschera e così via Quindi alla fine il lavoro finito sarà qualcosa del genere Ma noi dobbiamo partire da zero questa volta Quindi questa roba qua la rimuovo Non c'è più il gatto è morto ok? Stessa cosa vale per il mio video Allora come funzionano i livelli su Anime CC? I livelli sono questi 1, 2, 3, 4, 5 Questi sono i livelli Vedete uno è sopra l'altro Quello che appunto sarà Andrà a sovrapporre la parte inferiore Quindi i livelli noi li vediamo qui Ma poi i frame sono tutt'altra cosa In un livello ci possono essere molteplici frame Questi sono tutti frame singoli Quelli che io ho aperto qui adesso Sono 1, 2, 3, 4, 5 su 80 frame Quindi ogni volta che la timeline si muove Cambierà quello che io ho disegnato qui Possiamo gioiosamente fare una prova Questo non vuole essere un tutorial sia chiaro ma più Un racconto Una dimostrazione di come io lavoro Ma cercherò comunque sia di parlarne Indicando i tasti Perché io mi muovo con il punto e la virgola Nella timeline Un frame per volta E poi questo lunghissimo frame Che vedete che è tutto un pezzone Che si crea con F5 E poi più lo tengo premuto Più lo premo Più si allunga Con F6 Lo posso dividere in altri frame Punto punto Mi sono spostato F6 Punto punto F6 E mi sto suddividendo i frame Due frame Per precisione in questo momento 12 frame al secondo Se ogni due frame Apro un nuovo frame E l'impostazione che ho dato Alla scena iniziale Sono 24 fps Se io ogni due frame mi muovo E lo stacco Diventa un 12 fps Che adesso mi serve Per farvi capire come esempio Ma in realtà Ci sono dei frame Che posso far durare 3 frame Al secondo E altri che ne posso far durare Solo uno In base alla tipologia di movimento A cui sto lavorando Quindi se io vado a disegnare Adesso Vedete che mi si è riempito Questo frame Questo frame si è appena riempito Ma se io mi sposto Tac Non c'è più Perché sto su un altro frame Qui c'è Qui non c'è Qui c'è Qui non c'è Se io faccio una palla qui Oh si è spostata Oh Adesso la faccio qui Poi la faccio Dov'era Qui 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 si è schiacciata Perché sta per rimbalzare Poi Qui 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 E così via Questo è il movimento che ottengo Wow Boing Wow Wow Boing Quindi Non è altro che disegnare su uno stesso livello Però in differenti frame Per invece vedere il frame precedente Io basta che attivo la onion skin baby E vedo quello che c'è nel frame precedente Quindi posso animare con un po' più di precisione Cosa che adesso non ho fatto Perché era solo una dimostrazione Detto questo Adesso questi qua Li possiamo uccidere Boom Però più o meno il succo Lo abbiamo capito Spero Adesso quello che noi dobbiamo fare E importare la nostra scena Importare il nostro video Che ci serve solo per progettazione Non vogliamo che venga esportato Ci serve soltanto per disegnarci sopra Non includo l'audio Perché se no mi farebbe impazzire E non mi serve E faccio fine Il mio video è qui Che si è decentrato Ma eccolo qua Vediamo come dura il video E vediamo quando si ferma Perché Animate Potrebbe farlo durare Meno del dovuto Quindi io lo allungo con F5 E vediamo Si si ferma precisamente qui Questi li posso rimuovere Et voilà Questo è il mio video di riferimento Adesso io ci dovrei schizzare sopra Per facilitarmi la vita Abbasserò la luminosità del video Così che veda con più contrasto I schizzi e i disegni che farò sopra Mi vado subito subito a preparare I miei frame sopra E li dividerò a due a due Come prima Poi aggiusterò la velocità Dei frame In base al movimento che cercherò di fare Che ancora non ho idea di cosa fare In questa scena Probabilmente faccio un altro gattino Che anche lui Sta schizzando l'acqua Come il bambino Come potete ben vedere Io tengo sempre a lato I riferimenti Dei miei personaggi E inoltre Questi personaggi qua Li ho messi vicino A una silhouette di un bambino Proprio per vedere L'altezza più o meno Rispetto a un bambino E non andarlo mai a fare Fuori proporzione Come vediamo La testa del gattino Deve raggiungere sempre All'incirca Il bacino del bambino No? Quindi dovrà stare lungo Quest'altezza Quest'altezza Che corrisponde Con le finestre qui dietro Quindi a posto Non devo stare a lasciare Delle linee Perché già le finestre Qui dietro Mi fanno da riferimento Ottimo! Io farei il gattino Che spruzza l'acqua Verso questo lato In modo da creare Una scena più o meno simmetrica Il bambino schizza l'acqua Da questo lato Il gattino me la schizzerà Da questo lato Mi sembra che abbia senso Come ragionamento Il primo frame che disegnerò Sarà un frame Di preparazione All'azione Che è più o meno Quello che corrisponde al bambino Il bambino non sta schizzando Ma sta tirando indietro l'affare Poi spingerà per schizzare Anche se da qui L'acqua esce comunque adesso Perché questo affare qua È un macello A parte che quello che ha il bambino È bello grande Quindi potrei portarmi qua Questo pezzo Semplicemente per farlo Di grandezza più o meno identica La posizione del gattino Voglio che sia bella Inarcata Ok mi sembra che più o meno ci siamo Quello che farò adesso Che a voi sembrerà strano Ma in realtà È un'ottima tecnica di animazione Che aiuta moltissimo A fare dei movimenti belli fluidi È fare la posizione finale Dell'atto Dell'azione Quindi piuttosto che Iniziare ad aggiungere frame Fino a che non arrivi Al punto massimo dell'azione Farò subito Il punto finale Dell'azione Quindi quando già avrà schizzato l'acqua Innanzitutto mi ridisegno il tubo In modo che l'elemento più rigido Sia coerente con quello precedente Poi lo sposterò E in questo caso La manopola sarà tutta dentro Vorrei però che Nel movimento Si inarcasse un po' Che sparasse l'acqua Un po' verso l'alto In modo che un po' si veda Perché se la sparasse Dritto per dritto Farebbe due schizzetti E nessuno di noi Vedrebbe niente Cosa che renderebbe L'animazione poco interessante Voglio che in questo caso Sulla schiena Il corpo si inarchi Nella direzione opposta Parte in un'arcata del genere Finirà in un'altra arcata In modo da rendere Non solo più interessante Il movimento Ma che abbia un senso Insieme a tutto il corpo Che non siano solo le mani A muoversi Che sia tutto il corpo Creare il movimento Anche perché per spingere Tutta quest'acqua Tutta quest'acqua Con forza Il gattino Deve usare Più o meno Lo slancio Di tutto il corpo E rende anche tutto Più interessante Immaginatevi Quando uno Va a usare Un martello Se un pupino Usa un martello Muove soltanto La manina Così Spook Così si è mossa No? Dite È interessante? Sì Fino a un certo punto Cosa ne dite Se invece di fare Soltanto quello spook Non facessi tipo Eh Se papà Orcazzo Smo ti do una martellata Per la miseria E poi da questa posa Passa a Questa posa Buaa Buuu Questo è molto più interessante Questo è fico Nell'animazione Quello che io trovo interessante Nell'animare Quello di creare Uno slancio di movimento Con tutto il personaggio Ed è per quello che io Adoro animare Frame by frame Questo programma Ti permette anche Di animare cose abbastanza robotiche Tipo Fai un braccio Gli metti un punto Poi lo fai roteare Poi farlo E sono più animazioni Che si utilizzano Nei cartoni contemporanei Però a me non piace A me piace La classica frame by frame Cos che avrei dovuto dire Inizio video Qui adesso Devo un attimino capire Come Come muoverà I piedi Perché Questo piedino qua Lo potrebbe inclinare In questo modo E questo ce l'ha un po' più teso Pam Così Si è spostato tutto indietro E la coda pure Seguirà il movimento Quindi farà così Da che partita così Passerà a quest'altro La testa invece Lavoriamo sulla testa Che adesso è la parte Un po' più complicata Prima era inclinata In questo modo Adesso la inclineremo In questo modo Cioè sarà un pelo abbassata E le orecchie saranno andate Un po' in avanti Perché il movimento Io mi butto all'indietro E il movimento Mi fa buttare L'orecchia in avanti Se avessi le orecchie da gatto Cosa che non ho Farei gli occhietti chiusi E la bocca aperta Yeeey Bello Quindi io passerò Da questo movimento A questo movimento Adesso abbiamo determinato I due frame Chiave Chiamiamoli così Sono i frame chiave Del nostro movimento Sono l'inizio E la fine Adesso per passare dall'inizio Alla fine Come faccio? Inizio ad aggiungere Mid frame Almeno così Insegna il caro Draw with Jasa Almeno così Li chiamava lui Quindi anche io Li chiamo in quel modo Quindi qui Io ho creato un frame Vuoto in mezzo Se io aziono L'onion skin Io vedrò Il frame iniziale E quello finale Quindi io potrò Disegnare in mezzo Vedete Questa mano Posso disegnare Tranquillamente La mano in cui Cioè la posizione In cui la mano Stava prima Così come la posizione In cui la panza Stava prima Prima di inclinarsi Del tutto In cui la gamba Stava prima Di piegarsi del tutto Non è very interesting Questa cosa Per me lo è sempre stato È una cosa magica Proprio Magica Adesso Io passo dal corpo Qui Quindi qui In mezzo Tac La gambetta Qui si inizia Un po' a piegare La coda Qui Seguirà Inizierà A seguire L'andamento Della coda Finale Ma in realtà Il movimento Della coda Deve partire È strano Far funzionare Una coda Perché se io Parto con la coda Che parte così In questo caso Dovrò far vedere Che inizia A abbassarsi In questo modo Quindi Penso che così Anche se sembra Molto strano In realtà Sia il movimento Più corretto La mano Se prima la spalla Stava qui Poi la spalla Si è trovata qui Adesso si troverà Più o meno qui Il gomito Si trova più o meno qui E la zampa Adesso Sta qua Pensate Quando si animano Movimenti davvero complessi Di linee così Trasparenti Dietro Ne vedo a centinaia Il mio cervello Si fonde E va letteralmente A quel paese L'occhio qui Si inizia un pochino A chiudere E la bocca Si inizia ad aprire Le orecchie pure Si iniziano a muovere E per un movimento Se lo vogliamo fare Davvero così veloce In realtà Questi tre frame Sono sufficienti Ma sicuramente Per renderlo più fluido Un po' più lento Ne aggiungerò Altrettanti Qui c'è la base Del mio cilindro E tra queste due Precisamente Ci sarà L'altra E poi collego Bup Bup Vediamo più o meno Come funziona adesso E uno Due Tre Un 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 Due Tre Lo metto un attimino A ripetizione Per vedere bene il movimento E' molto veloce Forse troppo veloce Come abbiamo visto E' soltanto un mid frame In più Ne dobbiamo aggiungere Almeno un altro Inizierei con aggiungerlo Tra il primo frame chiave E il mid frame Quindi lo aggiungerò Qui in mezzo Provo di nuovo a metterlo a ripetizione Adesso che ho fatto l'altro frame E già il movimento è un po' più fluido Stuck 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 Adesso vorrei provare ad aggiungere Quelli che io personalmente chiamo Poi non so se c'è un termine corretto o meno Frame di inerzia E sono dei frame in cui io vedo che il movimento O si sta per scaturire O si è già scaturito E si come dire Si scaturisce Si scaturiscono i residui Di movimento In questi ultimi O barra iniziali frame Quindi quando sono arrivato al massimo qui Immaginiamo che adesso lo copio per facilità Della vita Che avendo premuto Adesso lo storco così Per farvi capire quali sono i residui Di movimento E lo faccio ripartire Vedete che finisce no? C'è un residuo di movimento Si Ho schiacciato però continuo un attimino a muovermi Come Non so come spiegarlo bene In italiano E' un movimento residuale finale Che adesso però Voglio fare Disegnato Non copiato Incollato Anche se funziona così Potrei comunque sia modificare Quest'ultimi No forse è meglio rifarli proprio Bene signori Una volta finita l'animazione con lo schizzo E si è Pienamente soddisfatti del risultato Vediamolo Quindi parte uno schizzo Poi l'altro va tipo su Woo Woo Che mi sembrava relativamente funny Poi mi piace che si interseca Comunque sia con la figura del bambino Come in questo caso In modo che renda più realistico il tutto Quando andrò A mettere il gattino leggermente dietro Questo attrezzo Poi in post Il fatto sta che Una volta finito appunto Questo schizzo Questo ovviamente va Bloccato Ci interessa più Il video penso che può tornare A una luminosità normale Lo schizzo invece lo possiamo chiarire Metto su moltiplica Si perfetto Così almeno diventa quasi trasparente Io posso disegnarci sopra Fatto questo passaggio Io addirittura il video lo posso anche spegnere Per facilitarmi adesso Il colore L'inchiostrazione eccetera Quindi adesso Io vado sul mio livello Cat 2 Qui si chiama Potete chiamarlo come vi pare Insomma questo Non è essenziale Vado a crearmi I stessi frame utilizzati Per fare lo schizzo E io adesso andrò a disegnare Su questo livello Che ovviamente è sopra Il mio schizzo Io ho i miei colori salvati Anche per la lineart Perché il tratto Mi piace tenerlo Estremamente sottile Nei casi di questo tipo Questa tipologia di animazione Insieme al video Anche perché si ispirano molto Ai video dei gorillaz Per capirci In cui non hanno un tratto Così spesso Poi dipende dal video di cui parliamo Perché cambiano Ma detto questo Io vado semplicemente A fare la mia Simpatica lineart Io ve lo faccio vedere Soltanto di un gattino Ok Ne faccio uno Insieme a voi Poi il resto Magari lo velocizzo Per facilitarci un pochino La vita Per facilitarla anche a me In modo da poter sentire Un po' di musica O qualcosa del genere O non sia mai Che sia buona la prima Guardate che linea storta Questa cosa Io non la posso vedere Quindi va rifatta È molto importante Ai fini del colore Che non ci siano Spazi vuoti Che non si tocchino Tra una linea e l'altra Devo stare molto attento Alle intersezioni qui Perché il colore In animate Funziona in un modo Molto fico Perché Io sto disegnando In vettoriale Qui ci sono tratti vettori Infatti io Questa cosa qua Anche se la zoom O al massimo Non la vedrò mai Spixelare Proprio perché È un vettore La cosa è molto comoda In fattore animazione E rende il tutto Molto più leggero L'occhio di solito Faccio solo il contorno E poi lo riempio E già qui vi posso Dare una leggera Anticipazione Su come funziona Il colore su animatici Che è la magia Che velocizza Appunto il lavoro Quando io prendo Il secchiello Colora in automatico Tutto ciò che è chiuso Tac In modo preciso E questo ovviamente Accelererà Accelererà Di molto Il processo Di colorazione Come potete immaginare Inoltre La bellezza Di lavorare Con i vettori E questo tipo di Disegno È che se fate Una curva Un po' tremolante Facciamo il caso Questa Comunque si All'ammorbidisce Un po' Ovviamente Non deve essere Super tremolante Non è che fa Miracoli Però se già Qua c'è del tremolio Comunque si Allora rende un po' Più liscio Boom Visto La magia L'ha fatto Non so se l'avete notato Non so se l'avete visto Io l'ho visto Già questa l'ho fatta Troppo storta Lo vedo Queste linee dei dettagli Le faccio estremamente Sottili Ovviamente Il corpo qui Si chiude Ed è finito Ovviamente Il mio gattino Avrà un costumino Come ho fatto Fino adesso Non lo faccio Nello schizzo Perché sono sempre Tratti in più Che mi vanno A far intrecciare Gli occhi E quindi evito Se possibile La coda in realtà È molto più intelligente Se la faccio dopo Adesso vi spiego perché Io qui Nelle impostazioni di pennello Ho colora dietro Vuol dire che Qualunque colore Io utilizzi Mi va a colorare Dietro quello Che già ho fatto Visto Va dietro Va dietro l'occhio Si Pam Pam E in questo modo Io posso definire bene I limiti Del mio colore Quindi qua Le orecchie Di questo colore Questo è il colore del gatto Toc 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 E il costume di questo gattino Com'era? Non me lo ricordo più Era giallo Quindi giallo Poi avevo preso Anche questo giallo Per fare questi elementi Se non sbaglio Ai tempi Sono di quel colore Non mi ricordo più Accendo il video Si sono gialli C'è un azzurrino Poi c'è dell'arancione Che avevo utilizzato Mi sa questo qui Esatto Così avevo fatto Tum Perché non è la prima volta Che disegno questo bastone Che animo questo bastone Con l'acqua Adesso la coda Visto che tutto il mio gattino Già è disegnato E io coloro Soltanto dietro Scrivo Disegno soltanto dietro E' più facile da fare In un unico Tratto Anzi un tratto punto Tratto dalla favola Dei tratti trattati male Di trattorio trattato Coloro anche la coda Tac Tac E questo processo Devo farlo per altri Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ondici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici 17 18 19 20 frame E sarà magnifico Ovviamente Avete visto più o meno Il tempo che ci ho messo L'animazione E' un percorso lento Però vi assicuro Che è altrettanto Gratificante Ma Sulla sua lentezza Lo sapevate già Soprattutto Se si fa il frame by frame Che è lo stile Che io preferisco Ovvero Io vado a disegnare Animare Ogni frame Manualmente Con un disegno diverso Come la vecchia scuola Degli anime Ci insegna Come i vecchi film Della disney Che mi dispiace Che non ne facciano più In quel modo Ci insegnano Infatti Quei film lì Sono invecchiati Molto bene Se andate a vedere Alice nel paese Delle meraviglie E' invecchiato benissimo Cioè ancora adesso E' altrettanto godibile Invece Se andate a vedere Il primo Toy Story Fate un po' Strizzate un po' L'occhio Dite Cioè l'animazione Frame by frame Dipende unicamente Dalla mano Del disegnatore Dell'animatore Infatti vi consiglio Su netflix Adesso ci sono tutti I capolavori Di miasaki Dello studio Ghibli Ho visto l'altro giorno La città nel cielo Mi sembra si chiami Dell'ottanta qualcosa E' quel film Ed è invecchiato benissimo Cioè è super godibile L'animazione Di una qualità Magnifica Frame by frame Signori Comunque sia Proseguo Per voi Sarà un po' Più accelerato Bene signori Siamo arrivati a quella Che può sembrare Essere la fine Ma no In realtà proprio no Ogni volta che arrivo A questo punto durante l'animazione Penso ok Questa scena più o meno è finita No Mancano le ombre Che sono relativamente fondamentali Ma intanto vediamo Come si muove Fluido Per bene Il nostro bel gattino Soprattutto l'acqua Mi piace come l'effetto Particellare Che sono riuscito a creare Si esplode un po' Oltre al ruscello d'acqua Come lavoro con le ombre Come possiamo vedere Anche il bambino E' piuttosto assente Di ombre E parlo dell'ombra Che proietta sul terreno Quindi inizieremo Proprio da quella In questo livello Qui inferiore Che tengo Devo suddividere sempre I frame Bla 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 In realtà no In realtà no Vi devo fare un'altra cosa Prima Che sciocco Che sciocchino Tutti i frame Che sono qui Metterò l'effetto Moltiplica L'effetto diffusione Funziona Così anche su photoshop Si mettono gli effetti Sui livelli Quindi già Il mio colore Vedete Non è più quello di scelta Ma è uno che si va a mischiare Con il colore di sottofondo Come se non bastasse Oltre a questo Aggiungerò un filtro Di sfocatura Che me lo sfocherà Di proviamo Con 14 E forse la sfocatura Y Non la voglio più pesante Vediamo Vedete no Come funziona Forse ci vuole ancora più sfocatura E questa sarebbe All'incirca l'ombra Del mio gatto Però Non può rimanere ferma Perché va a uccidere L'effetto Del tutto Quindi Qui la modifico Giusto Un pelo Faccio addirittura Ruotare un pochino Vediamo Qui la posso anche allungare Come se il culetto Che si avvicina Si avvicina A terra Mi proietta un po' più d'ombra Non manca molto La sistemazione Di questa ombra Credo E questa è una semplicissima ombra Da terra Nulla di che C'ha un minimo di movimento Che accompagna il tutto E sarà ancora più Trasparente Diciamo così Una volta messa in post produzione Nel video finale Adesso manca L'ombra Ma Peo hai appena fatto l'ombra Ma cosa stai dicendo Aiuto Che succede Ho paura Del gatto Dentro il gatto Sopra il gatto Che in genere Tengo il più semplice possibile Anche per un fattore Di velocità Di produzione Adesso magari ne facciamo Una all together Una tutti insieme E poi vediamo di accelerare Anche qui Moltiplica Sull'effetto del livello E' un filtro Sfocatura anche qui Che però Terremo leggero 14 13 Quindi in questo caso Io vado a decidere Cosa è in ombra Quindi io per esempio Voglio che questo Mi proietti Una leggera ombra Che ovviamente Sotto la mia testa Ci sia dell'ombra Che sia la stessa testa A generare quell'ombra Un pochino sulla coda Vedete io sto uscendo Volutamente Dai contorni Perché poi Quando applicherò La maschera Sopra Verrà tutto Nascosto E sinceramente Già così Non voglio mai esagerare Con queste ombre Già così Direi che ci siamo Posso tol Al massimo Metterne una qui Lunga Che faccia capire Un po' L'effetto Della rotazione Di questo affare Come si vede da lontano Non mi fa impazzire Non è lento Come processo Che ho affrontato Fino ad ora Però non è neanche velocissimo Nel senso che richiede La sua buona dose di pazienza Anche questo E nell'animazione Non ci sono tante scorciatoie Cioè ce ne sono Ma Limitate E le scorciatoie Che vi erano Già le ho utilizzate Qui non c'è più Altra Altro metodo Insomma Ci si intreccia Anche un po' Gli occhi Con questo metodo Vediamo L'esito finale Com'è Ok Mi sembra Che ci siamo Non so se voglio mettere Un po' Di ombra Anche nell'orecchio Però come ho già detto Non vorrei esagerare Mi sembra piuttosto ok Quindi adesso Si va con la parte Finale La finalizzazione Quindi Intanto Spengo l'ombra Spengo il video E devo Far diventare Una maschera Queste ombre qua Quindi l'unica cosa da fare E prendere Tutti i frame del gattino Me li copio Mi li metto Nel mio livello Che funziona Volutamente da maschera Alle ombre Gli dico Mostra applicazione Maschera E pam E dentro Finalmente Le nostre ombre Non escono fuori Dall'immagine Il che è fantastico Perché adesso Posso esportare Quindi vado Prima di tutto A esportare Il mio gattino Siamo arrivati Alla scena Questa è la 12 Perché la 11 Era troppo complicata Da fare adesso Per un video Scena 12 Faccio il gatto Che sarà una sequenza PNG Adesso vi spiegherò Cos'è una sequenza PNG Secondo me È il metodo Più flessibile Con cui Esportare un'animazione Cioè Te l'esporta In immagini singole Tante belle immagini Infatti Se io vado a vedere Qui nella mia cartella Sono tutte immagini singole Vedete Io scorro Scorro E questo si muove Sono tutte immagini singole Adesso Esporto anche La mia ombra Singolarmente Una volta esportato Anche questo Possiamo tornare a Premiere Quindi intanto lo apro In modo molto ordinato Io sto lavorando Questo progetto Quindi come potete vedere Ogni scena Ha la sua Relativa cartella Quindi nella scena 12 Io adesso posso fare File Importa Vado nella cartella Del gattino Seleziono la prima immagine E qui deve essere spuntata La sequenza immagini E questa è la prima scena Gattino Poi Importo anche l'ombra Adesso Gatto 01 Shadow Prima immagine Importa Le vado a mettere Rispettivamente Dove devono andare Nella scena Oh Jesus Jesus Pronto Jesus Dove ero rimasto Non mi ricordo più Ok Ho esportato Importato il tutto Che è molto più grande Come vedete qui Perché io esporto A una grandezza Maggiore Diminuendo la scala Del 75 Al 75% Dovrei ottenere Tutto Come dico io L'ombra La metto su Moltiplica Ed è troppo Troppo Violentemente Scura Quindi la vado A opacizzare Eccola lì Precisa Adesso direte voi È finito No Perché ci andiamo A buttare dentro Una luce Una luce Che Quanto la voglio Potente Secondo me ci siamo E ora che ho anche Esportato la scena La possiamo vedere In loop Come si mette Il loop Qui Ok Signori Avete visto Un maestro animatore All'opera Quanta poca umiltà In quest'uomo Direte voi Quanta poca modestia Ma io non sono Peocolorista Non sono quello frustrato Non sono E Dove è andato Peocolorista Ah eccoti Beh Che ne pensi Io si Che sono un uomo Soddisfatto E felice Non come te Adesso Il prossimo video Dovrai Tu Lavorare Sì sì Proprio tu Perché il prossimo video Sarà quello riguardante La challenge Che abbiamo fatto E che Peocolorista Ha rovinato il Goku Vi ricordate Bene Questo più o meno è quanto Peocolorista Ti puoi togliere Dall'inquadratura Grazie Questo è quanto Per questo Videolo Spero che qualcuno Sia tornato utile Possa essere Tornato utile Qualcuno Che volesse mai provare Ad animare Qualcosa del genere Beh Me lo faccia vedere Perché io sono curioso Di vedere I vostri risultati Come sta avvenendo Per le challenge Magari più avanti Se questo video vi è piaciuto Me lo dimostrate Sotto nei commenti Possiamo provare A fare una challenge Anche sull'animazione Qualcosa di un po' più semplice Tipo una gif Fatta un po' bene Con un'animazione Frame by frame Seria Detto questo Signori Adesso Alla mia Destra Qui Appariranno Dei fantastici Video cliccabili Che dovete cliccare Non andate via Da questo canale Non andate a vedere Qualcun altro Iscrivetevi Se non siete iscritti Ma soprattutto La campanella Porcazzozza La campanella Ok La campanella Oh 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 Ciao!